Mattia, giornata estremamente positiva quella di oggi, finalmente hai trovato il ritmo giusto. Sì, fin dall'inizio ho trovato un ottimo feeling sia con l'attrezzatura che con il campo di regasa, con il vento, che era una cosa fondamentale. Quindi sono entrato subito in fase, fin dalla prima prova sono riuscito a rimanere lì davanti, sempre nelle prime posizioni. Poi sulle pop, quindi quando scendevi il vento, dalla prima bonda e dalla seconda, riuscivo sempre a recuperare quelle posizioni che comunque mi portavano in testa. Poi una volta in testa controllo il gruppo con la velocità che era ottima, direi, era abbastanza facile. Mattia, cosa ha cambiato rispetto agli altri giorni? Il vento sicuramente, poi secondo me le regate mondiali di questo genere si dividono in due parti. La prima parte che sono le qualificazioni in cui tutte le flotte sono mischiate, la seconda parte che sono le finali che è quella un po' più, sicuramente più importante, è anche un po' più difficile in cui bisogna metterci la testa. Sono molto contento perché anche da questo punto di vista credo di essere leggermente migliorato. Cosa ti aspetti invece da domani? Insomma, metà lì si sta in testa, quindi devi dare il massimo anche domani per ottenere la metà. Domani sarà la giornata decisiva per raggiungere il sogno, comunque arrivare secondo, che va bene, però noi puntiamo sia chiaro al primo posto. Il vento credo sarà un po' più leggero di oggi, non solo l'orario della medal race, ma saremo qui fin dalla mattina presto e speriamo che le condizioni ci assistano, dai. Mattia, cosa serve per vincere la medalia d'oro? La testa, la testa e tanto allenamento. Come dice il nostro allenatore, le regate non si vincono durante appunto le regate, ma in allenamento. Grazie. 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 Grazie.